Fra le donne importanti del I secolo del Cristianesimo citavo prima Fabiola, la fondatrice di quello che viene considerato il primo ospedale d'Occidente, mentre il primo ospedale d'Oriente viene attribuito di solito a San Basilio e a sua sorella Santa Macrina. Forse può sembrare un po' strano perché siamo abituati a pensare che l'ospedale sia un'istituzione sempre esistita, non è così. Il mondo antico aveva la sua medicina, c'era la medicina cinese, la medicina indiana, la medicina greca che è poi l'antenato della nostra medicina occidentale, la medicina di Ippocrate e di Galeno. Ma il concetto di una cura per tutti ricchi e poveri e di un'attenzione ai malati e ai deboli non c'era. Gli storici della medicina sono assolutamente concordi. L'ospedale in questo senso come lo intendiamo noi, come luogo di accoglienza per i malati e gli emarginati di ogni genere, è una invenzione, diciamo così, del cristianesimo, come l'orfanatrofio a cui accendavamo prima. Perché questo? Per un motivo molto semplice. Cristo, torniamo alle origini, nella sua esistenza soffre, patisce. Infatti i momenti chiave della storia di Cristo sono la nascita, il Natale, la passione e la risurrezione. Che cos'è la passione? Passione significa patire, soffrire. E ancora oggi noi chiamiamo il malato paziente, cioè colui che patisce. Perché? Perché in questi secoli in cui si elabora l'idea di una attenzione a tutte le figure che soffrono, in questi secoli, la meditazione parte proprio dal Christus Patiens, dal Cristo che soffre, che soffre nell'orto degli olivi, che soffre nella flagellazione, che soffre sulla croce. Dunque, se Cristo ha sofferto, tutti coloro che soffrono sono, secondo la terminologia che si usa in età medievale, altri Cristi o poveri Cristi, che è un'espressione che in fondo ricordiamo ancora. I poveri, i malati sono pauperes Cristi, altri Cristi. Se ricordiamo il Vangelo, a un certo punto Gesù dice, beati voi che mi avete curato, che mi avete dato da mangiare, che mi avete visitato in carcere. Quando lo abbiamo fatto? Quando avete curato, visitato qualcuno dei piccoli, qualsiasi persona. Questa identificazione fra il sofferente, il malato, il debole e Cristo è il fondamento della nascita dell'ospedale. Queste figure femminili e maschili, di persone laiche o di persone religiose, di monaci e di papi, fanno a gara, in qualche modo, nel costruire confraternite, gruppi di persone, oggi li chiameremo volontari, che, meditando la passione e la sofferenza di Cristo, fanno della compassione, dell'assistenza, della cura, un valore fondamentale. Ogni cristiano è dunque invitato ad essere un po' come il buon samaritano e ogni malato, ogni sofferente, è un po' come Cristo che porta la croce. Nei testi medievali di queste persone, che investono i loro avere il loro tempo gratuitamente per dare alloggio, assistenza ai malati, ai pellegrini, agli orfani, ai viandanti, alle persone sole, noi troviamo spesso questa affermazione. Cristo è stato nel contempo medicus et infirmus. Medicus perché ha curato, ha risuscitato Lazzaro, ha dato da mangiare alle persone che avevano fame, è infirmus, come dicevamo prima, per chi ha sofferto. E dunque l'ideale della carità diventa così importante da partorire una quantità incredibile di opere di carità, soprattutto fino al 476 d.C., anno della caduta dell'impero romano. Dopo la caduta dell'impero romano, questa grande fervore che aveva portato tante donne, da Fabiola, Melania, Macrina, a dedicare i loro beni e la loro ricchezza ai poveri, ovviamente subisce un arresto, perché ci sono le invasioni, perché ci sono tanti problemi, perché è difficile dedicarsi agli altri quando a malapena si riesce a sopravvivere. Ma con l'anno 1000, all'incirca, con la ripresa della pace, la rinascita dei comuni e così via, l'ospedale rifiorisce ed abbiamo qui degli ospedali che diventeranno il modello di tutti gli ospedali d'Europa e poi del mondo. Uno di questi è il Santa Maria della Scala di Siena. Se noi andiamo a Siena, ancora oggi di fronte alla catedrale, a quella che veniva chiamata la Domus Dei, la Casa di Dio, c'è l'ospedale. L'ospedale viene chiamato pellegrinaio, perché è per i pellegrini, viene chiamato Xenodocchio, ma viene chiamato anche Domus Dei, esattamente come la Chiesa, per il discorso che facevo prima. Ed ecco perché se noi osserviamo un ospedale medievale, ci accorgiamo di una cosa, ha la stessa struttura della Chiesa, una navata o tre navate. È tutto affrescato. Perché? Perché il malato è considerato un'unità di anima e di corpo e quindi viene curato, evidentemente la medicina allora non è quella di oggi, ma viene curato nel suo corpo e viene anche ristorato nella sua anima. Ecco perché non solo gli ospedali medievali sono tutti affrescati, spesso hanno dei letti e delle superlettili più ricche di quelle delle case normali, proprio perché bisogna servire il paziente con tutti gli onori, ma abbiamo perfino i musicisti e gli artisti che dedicano del loro tempo volontariamente per andare a sollevare l'animo afflitto dal dolore di queste persone. Quella che noi oggi conosciamo come la musicoterapia, in altre parole, inizia già in età medievale e poi si diffonde particolarmente nel Seicento, quando nei grandi ospedali fondati da San Filippo Neri o da San Giovanni di Dio, per i malati o per i matti, come quelli di San Giovanni di Dio, i grandi musicisti romani vanno una volta alla settimana o periodicamente a suonare e offrire in qualche modo il loro sostegno. Ebbene, questi ospedali che si diffondono soprattutto inizialmente in Italia, citavo Siena, poi possiamo citare Firenze, dove il Santa Maria Novella viene fondato dal padre di Beatrice, la Beatrice di Dante, Folco Portinari, questo mercante che a un certo punto viene convinto dalla sua donna delle pulizie, monnatessa francescana, a donare dei soldi che ha guadagnato agli altri, di cui la nascita di questo ospedale. Roma, che diventa presto una delle capitali, anche la capitale mondiale degli ospedali, insieme anche a Firenze, a Pisa e a Bologna. Ebbene, questi ospedali sono anche, per riallacciarsi al discorso che facciavamo prima, sono anche luoghi di ospizio per i bambini, gettatelli, per i trovatelli. Cosa significa? Dicevamo in origine che col cristianesimo i bambini non verranno più esposti, abbandonati, uccisi, schiavizzati come prima, ma evidentemente non è che il problema scompaia del tutto. Rimangono momenti di difficoltà economica, problemi vari. Che cosa escogita la carità cristiana? Escogita le ruote degli esposti, escogita delle conchiglie di marmo che vengono poste fuori dalle chiese, di modo che le famiglie, le donne, le coppie in difficoltà possano abbandonare il loro figlio, ma non più sul monte, non più a morire di fame, ma abbandonarlo in un luogo dove questo bimbo venga prelevato e allevato. Quando noi ci troviamo di fronte a un cognome come esposito, degli esposti, trovato, trovai, fortuna, di otallevi, degli innocenti, colombo e così via, sono tutti figli di, sono tutti cognomi che ci ricordano che all'origine c'è un bambino esposto, un bambino che viene appunto consegnato a questi conventi, a queste chiese, a queste ruote degli esposti e che poi verrà allevato in questi ospedali che gli insegneranno anche un lavoro, gli lasceranno una dote e lo accompagneranno quindi alla vita adulta. In estrema sintesi possiamo anche aggiungere che la nascita dell'ospedale, piano piano, sempre più diffuso, che è alimentato dalla carità, dalle donazioni, dai volontari, dai uomini anche di nobile famiglia che lasciano tutto agli ospedali per dedicarsi al servizio dei malati. Questo, diciamo, questo ospedale che cosa fa? Funge poi anche da, sostiene lo svilupparsi della medicina. Perché la medicina poi come scienza esplode in un certo senso in Europa? Proprio perché l'ospedale, il luogo della carità, diventa così diffuso che il bisogno di medici, la necessità di approfondire sempre meglio anche la conoscenza diventa sempre più importante. Pensiamo alla figura di Camillo Dell'Ellis, questo soldato, questo mercenario che a un certo punto rimane ferito, che inizia a viaggiare per vari ospedali del tempo per guarire e non ci riesce e che proprio, frequentando gli ospedali, decide di dare la sua vita alla cura degli altri e fonda i Caminiani, i Caminiani che hanno come motto, appunto, scienzi et caritas. Camillo Dell'Ellis è il patrono degli infermieri perché invita, appunto, gli uomini che si dedicano ai malati a essere sia uomini di amore, di carità, sia uomini di scienza. Fra le tante cose che possiamo ricordare, il campanello a letto, è un'invenzione di Camillo Dell'Ellis, così come le consegne quando gli infermieri lasciano il loro turno e passano in qualche modo le notizie sui malati, su cosa è accaduto nella giornata, a chi gli succede, anche questa è un'invenzione di Camillo Dell'Ellis. Mentre, mentre, sarà soltanto un po' più avanti, due secoli dopo, Florence Nightingale a fondare la figura dell'infermiera moderna, con delle incredibili somiglianze perché anche Camillo Dell'Ellis era andato sui campi di battaglia con quel vestito bianco con la croce rossa al centro e anche Florence Nightingale servirà anche in questi luoghi così di dolore e di morte. Ed è la Nightingale stessa a scrivere. I greci e i romani sono stati grandi in tante opere, ma perché potesse nascere l'amore verso i malati e i sofferenti ci voleva l'avvento di Gesù Cristo. L'ultimo grande cambiamento sociale che affrontiamo, ce ne sarebbero anche altri, è quello degli schiavi. Noi siamo più abituati alla presenza degli schiavi, anche se, se osserviamo il mondo asiatico, per esempio, o certe zone dell'Africa, ci rendiamo conto che la schiavitù non è scomparsa del tutto. Ma siccome in Europa e nel mondo occidentale non la vediamo più, almeno nelle sue forme più eclatanti, siamo anche qui convinti che la schiavitù in fondo sia qualcosa che è scomparso, non si sa bene perché. In realtà i motivi sono molto ben identificabili. Che cosa accade quando Cristo arriva sulla terra nell'impero romano? Che l'impero romano è un grande impero, è un impero che ha grandi vittorie, che ha una forza militare notevole e ogni volta che Roma vince e sconfigge un popolo, una parte di quel popolo viene asservito, viene schiavizzato. Diventano schiavi, non tutti certo, ma un gran numero. Ecco che possiamo dire che intorno al primo secolo avanti Cristo l'Italia romana, quella che va dal Rubicone a Reggio Calabria, è abitata da una quantità enorme di schiavi, probabilmente il 30-40% della popolazione. Allora i senatori romani possedevano centinaia di schiavi, ma anche persone abbastanza normali qualche schiavo lo possedevano nella zona dei dominatori. Ebbene, che cos'erano gli schiavi nell'antica Roma pagana? Erano res, erano cose. Sostanzialmente alcuni scrittori, Catone e Varrone, parlano degli schiavi definendoli strumentum vocale, uno strumento come la zappa che parla. Ecco perché gli schiavi venivano fatti lavorare, lavorare nei lavori forzati, lavorare la terra, e i romani benestanti potevano evitare il lavoro manuale. Quando gli schiavi diventavano pericolosi venivano puniti molto severamente. La pena degli schiavi era il servile supplizium, cioè la crocifissione. Una pena spaventosa perché il condannato veniva appunto, veniva crocifisso con dei chiodi nelle mani e dei piedi e lasciato su questi leghi a morire di asfissia. Accade per esempio, a un certo punto, che uno schiavo gladiatore spartaco decida di ribellarsi ai romani. Riunisca tanti altri gladiatori, erano schiavi anche i gladiatori, e inizi in qualche modo a combattere contro Roma. Quando Roma riuscirà a sconfiggere Spartaco, che cosa accadrà agli spartachisti? Che verranno crocifissi lungo una delle strade principali romane. 6.000 gladiatori crocifissi, 6.000, per insegnare a tutti gli schiavi che la ribellione è molto pericolosa. Dunque, nell'antica Roma vi era la schiavitù e vi era la pena della crocifissione, vi erano anche altre pene, sappiamo di schiavi che venivano dati in pasto alle murene, sappiamo anche di schiavi nell'antica Roma che talvolta venivano liberati, i famosi liberti, perché i romani credevano che la schiavitù fosse di diritto positivo e non di diritto naturale, cioè nessuno nasce schiavo, ma chi perde diventa schiavo. La schiavitù c'era anche negli altri popoli, non c'è nessun popolo dell'antichità, egizi, babilonesi, greci, tutti avevano la schiavitù, anche i greci avevano la schiavitù, anche l'Atene democratica, cosiddetta democratica perché una certa fetta della popolazione partecipava alla vita politica aveva gli schiavi e addirittura nell'antica Grecia gli schiavi erano considerati schiavi per natura. Aristotele e Platone non si fanno problemi a dire che i bambini malati vanno uccisi e a dire che i popoli barbari vanno schiavizzati perché sono schiavi non per diritto positivo come dicevano i romani ma per natura. Dunque la schiavitù è pacificamente ammessa, non abbiamo neanche l'idea che sia sbagliata. Quando noi andiamo a vedere la storia di Spartaco, Spartaco non combatte contro la schiavitù e per la libertà, combatte per la sua libertà, tanto che quando Spartaco sconfigge dei gruppi di romani li fa schiavi, quindi l'idea della libertà dell'uomo neanche c'era. Quando quest'idea si afferma? Si afferma col cristianesimo. Pensate a quel famoso passo di San Paolo non esiste più né giudeo né greco né maschio né femmina, l'uguale dignità di maschio femmina, né schiavo né libero, ma tutti siamo la stessa persona in Cristo. Citazione non precisissima ma passerete questo piccolo errore. Allora dunque che cosa accade? Accade che nasce il concetto di persona. Accade che nasce quest'idea assolutamente nuova per cui ogni uomo è creato da Dio, è creato singolarmente per la sua parte spirituale da Dio, quindi ogni uomo è unico, è irripetibile, è una creatura di Dio e quindi ha una dignità immensa. È il concetto filosofico di persona che si afferma. E cosa porta con sé? Porta con sé tutta una serie di altre conseguenze, per esempio l'idea della libertà. Le persone sono tali perché sono libere, nessuno nasce schiavo. Quando alcuni romani pagani diventano cristiani si trovano di fronte a un grande dilemma. Magari hanno anche loro degli schiavi ereditati dai loro genitori. Cosa facciamo questi schiavi? Il grande storico Bloch dice i primi cristiani che avevano degli schiavi si trovavano ad andare a messa con i loro schiavi, a ricevere come loro il corpo di Cristo, ad avere come loro un rito di iniziazione, il battesimo, e quindi diventava per loro chiaro che la schiavitù non era giusta. Il cristianesimo non ha abolito la schiavitù con una legge dall'oggi al domani, ma ha introdotto quest'idea della dignità degli uomini e del fatto che la schiavitù altro non era che una conseguenza della schiavitù del peccato. Cosa dicono i primi padri della Chiesa? La schiavitù non è di diritto naturale. Dio non ha creato nessun uomo schiavo, è l'uomo egoista e malvagio, schiavo della sua malvagità, che fa schiavi gli uomini. Ecco perché il cristianesimo porterà gradualmente all'abolizione dello schiavismo attraverso un cambiamento anzitutto del cuore dell'uomo e poi solo successivamente della legge. Se l'uomo rimane schiavo dell'egoismo, dei beni, del denaro, non potrà liberare i suoi schiavi. Ma se l'uomo capirà la dignità che ha, i doveri chiaversi i suoi fratelli e così via, piano piano anche le leggi potranno eliminare la schiavitù. Facciamo sempre un esempio cereberrimo, quello di Agostino di Pona. Agostino di Pona che cosa fa? Nella sua chiesa in Africa chiama i padroni degli schiavi che sono diventati cristiani e li invita ad affrancare i loro schiavi. E quindi noi iniziamo ad avere sempre più cerimonie, di solito sancite proprio dalla presenza del vescovo o del sacerdote, di padroni che liberano i loro schiavi. La condizione degli schiavi cambia, come dicevo, lungo un certo periodo di tempo. Abbiamo dunque concili che vietano la battitura degli schiavi, altri che impongono di lasciare agli schiavi il diritto di sposarsi e così piano piano, come dicevo, lo schiavo torna ad essere uomo e la schiavitù sostanzialmente scompare dal cuore dell'Europa. Il punto chiave è stato la scelta, se vogliamo, di Cristo, di assumere, di prendere su di sé la pena degli schiavi e di indicare in qualche modo, attraverso questa pena terribile, la necessità in qualche modo per gli uomini di liberarsi dalla schiavitù del peccato che porta appunto anche alla violenza sugli altri. Qui vorrei notare anche un altro aspetto molto velocemente. La crocifissione è un sacrificio, è Dio che si sacrifica per gli uomini. Pensiamo sempre al mondo antico, al mondo precristiano. Che cosa accadeva? Accadeva al contrario, gli uomini sacrificavano alla divinità. Agamennone, prima di partire per Troia, sacrifica sua figlia. I Fenici, quando inauguravano un monumento importante, un edificio importante, sacrificavano i bambini. I reti nelle terre nordiche offrivano a Saturno, per propiziare il raccolto, bambini o vergini. Il minotauro di Creta ci ricorda anche qui la pratica del sacrificio umano. C'erano popoli come gli Astechi e i Maia che prima della cristianizzazione arrivavano a sacrificare al Dio sole fino a 20.000 persone. Anche l'idea stessa del sacrificio umano, cioè dell'uomo che deve ingraziarsi la divinità uccidendo delle persone, inizia a scomparire con l'idea esattamente opposta, che Dio si sacrifica per le persone. Concludiamo questa breve carellata ricordando brevemente qualche notizia sull'imperatore Costantino. Di solito siamo abituati a studiare che l'imperatore Costantino nel 313 concesse la libertà ai cristiani. Costantino che era un imperatore pagano, che gradualmente si è convertito al cristianesimo, ma che nel 313 finalmente ha posto fine alle persecuzioni. Ebbene, ha fatto solo questo Costantino? No. Per esempio Costantino ha vietato il marchio a fuoco sugli schiavi. Per esempio Costantino ha ribadito il divieto dell'infanticidio, che culturalmente, come dicevo prima, si stava già diffondendo. È intervenuto per la prima volta con sussidi statali per aiutare le famiglie in difficoltà. Per esempio la mamma di Costantino, Santa Elena, è andata alla ricerca della croce. E Costantino ha fatto anche un altro provvedimento, che ovviamente ci ha messo anche in questo caso il suo tempo a diventare effettivo. Ha vietato i giochi del circo. Cos'erano i giochi del circo? Erano originariamente sacrifici umani offerti agli dei inferi, perché quando moriva una persona importante sul luogo della sua sepoltura si facevano questi riti e il sangue in qualche modo serviva al trapasso del defunto, che poi erano gradualmente diventati occasioni di divertimento. Nell'antica Roma vi erano teatri per i giochi gladiatori dappertutto. E i giochi gladiatori dunque erano giochi in cui la gente si spellava le mani a vedere dei gladiatori, cioè degli schiavi, che morivano uccidendosi fra di loro o uccidendo le bestie o facendosi uscire dalle bestie. Ebbene i primi cristiani definiscono i circhi scuola di omicidio, si slanciano contro questa idea che ci si possa divertire vedendo le persone che si ammazzano e vedendo le persone che si fanno sbranare i condannati a morte sbranati dagli animali. Costantino vieta i giochi gladiatori, è il primo a farlo, ovviamente perché questo provvedimento diventi operativo in tutto l'impero ci vorrà un po' di tempo e soprattutto ci vorrà questo cambiamento di mentalità portato proprio dalla nuova religione cristiana.